Quindi, se questa dovesse essere l'ultima lettera, voglio che tu sappia che non stavo per niente bene prima di cominciare il liceo. E tu mi hai aiutato. Anche se non sapevi di cosa parlavo, o non conoscevi nessuno che aveva questi problemi, non mi hai fatto sentire solo. Perché io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono. E che ci sono persone che quando compiono 17 anni dimenticano com'era averne 16. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui. E sto guardando lei. Ed è bellissima. Ora lo vedo. Il momento in cui sai di non essere una storia triste. Sei vivo. E ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta. E senti quella canzone, su quella strada, con le persone a cui vuoi più bene al mondo. E in questo momento, te lo giuro, noi siamo infinito. E in questo momento,